era il giugno del 2011 quando terminò il restyling della villa comunale di via primo maggio ad oggi a distanza di quattro anni la struttura è nel degrado più totale questa volta le immagini dall'alto mettono in evidenza lo stato di abbandono del parco verde pubblico dove in qualsiasi ora è possibile accedere l'erba è alta ed è evidente la mancata manutenzione rubate addirittura le fontannine dell'acqua poi al centro del polmone verde lo scempio la fontana che ha preso il posto del laghetto è diventata un ricettacolo di rifiuti nella 2013 poi furono smantellati i giochi dell'area dedicata ai più piccoli o meglio quello che ne rimaneva la struttura del corso campano è stata più volte al centro di raid vandalici e furti nel mirino dei balordi finirono i giochi dei bambini che dopo la riqualificazione della villa comunale non sono stati mai riparati la struttura inaugurata dall'ex amministrazione pianese dopo il restyling fu oggetto di diversi atti vandalici in pochi mesi è così che la villa comunale all'incrocio tra via primo maggio il corso campano fatica a diventare il punto di riferimento per le famiglie giulianesi lo spazio delle giustrine era stato recintato in attesa del completamento delle opere che però non sono stati mai messi in atto ed ora tutti confidano nel buon cuore della nuova amministrazione comunale affinché renda fruibile e sicura l'area verde e sicura che la nuova amministrazione comunale affinché la nuova amministrazione comunale affinché